Le prime notizie su Villa Panza risalgono ai primi anni del Seicento, quando la villa venne costruita da Ascanio Orrigoni. La villa passò poi invece a Ernesto Panza e divenne celebre nel mondo grazie alla passione e all'amore che Giuseppe Panza di Biumo, quindi figlio di Ernesto Panza, che collezionò una delle più importanti raccolte d'arte del secondo novecento internazionale. Oggi gran parte di questi lavori fanno parte della collezione di grandi musei americani, ma il cuore della collezione è stato a Villa Panza, che è stato un luogo di sperimentazione, di criteri estetici e museografici assolutamente innovativi. Siamo nei rustici di Villa Panza, dove sono allestiti dei capolavori straordinari le grandi installazioni di arte minimale ambientale di Dan Flavin, queste luci florescenti e colorate, e incredibili anche i grandi lavori di James Turrell e Robert Turwin, dove c'è una fusione assoluta tra architettura, spazio e luce. La natura entra dentro la villa e noi che la percepiamo, che la viviamo, sentiamo la vibrazione dei colori, della luce e della perfezione della natura, che è stata uno dei temi di ricerca spesso studiata e profondamente amata da Giuseppe Panza di Biumo. Villa della Porta Bozzolo nasce nel 1500, ma assume il suo aspetto attuale nel 1700. Uno spettacolo che inizia proprio con questo meraviglioso giardino, un lungo viale parallelo alla facciata, con questa collina, quindi questa quinta scenica, che gioca proprio questo effetto di grande spettacolarità. Siamo ora nel piano superiore della villa, dove abbiamo questa esplosione di pitture parietali, con le quali Gian Angelo III decide di creare questo spettacolo sia all'esterno che all'interno, e quindi trasforma quella che era una dimora di campagna in una dimora di delizia. Siamo al monastero di Torba, un altro bellissimo bene del Fai, per giunta il primo bene del Fai e anche un patrimonio unesco. L'antica torre medievale era parte di un complesso fortificato, che era quello di Castelsepro. Ecco che si trasforma questo luogo in un monastero. Infatti ci sorprende all'interno di un'antica torre di epoca medievale, trovare delle bellissime pitture, dei resti di pittura, che ci indicano proprio quella che era l'utilità di questo luogo. Grazie.